Grande partecipazione ed empatia all'Università Orientale di Napoli per l'incontro tra Maurizio Gemma, direttore della Film Commission a Regione Campania e gli studenti per far avvicinare il mondo accademico alle realtà concrete del settore audiovisivo partendo da un caso di eccellenza proprio quale la Film Commission. Valentina Soria. L'Università Orientale diventa avanguardia sul territorio e fa incontrare gli studenti con i professionisti del settore dell'audiovisivo per colmare il gap tra mondo accademico e realtà produttive concrete e la sfida voluta e intrapresa dal professor Giordano, docente filmmaker che nel suo laboratorio di produzione di audiovisivi coniuga lezioni teoriche e incontri con esperti. E' con questa mission che Maurizio Gemma, direttore della Film Commission a Regione Campania, è salito in cattedra per portare la sua testimonianza. Gemma si è soffermato sulla nascita e l'importanza e il ruolo delle Film Commission, fenomeno nato in America e poi giunto più recentemente in paesi come l'Italia. Insomma un successo che viene da lontano ma che sta rivelando aspetti importanti e di valore sul nostro territorio consegnando traguardi di prestigio. Basti pensare ai David di Donatello, conquistati con il film d'animazione La Gatta Cenerentola, completamente made in Naples. Il cinema spiega ancora Maurizio Gemma, detta la linea dei consumi, promuove il territorio attraverso il coinvolgimento e l'identificazione, incuriosendo e disvelando realtà altrimenti sconosciute o dimenticate ed è di grande importanza per le ricadute turistiche e commerciali e occupazionali sui territori, da ciò la necessità di investire, produrre in loco e provare ad esportare. Fondamentale, suggerisce ancora ai giovani studenti, è formarsi e acquisire competenze distintive.